Mercoledì 2 giugno in Puglia sono stati registrati 5.957 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 196 casi positivi, 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia Bat, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti, sono stati registrati 10 decessi in Puglia, nessuno in provincia di Foggia e 22.424 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.